Don Luigi Palazzolo, un santo tra i poveri. Venerdì 17 giugno, le Suore delle Poverelle hanno ospitato la proiezione del film che racconta la vita di questa straordinaria figura. Fondatore dell'Istituto delle Suore delle Poverelle, è vissuto a Bergamo nell'Ottocento. Come sacerdote, Don Luigi Palazzolo si è preoccupato particolarmente dei giovani e della loro istruzione e ha creato case di accoglienza per ragazze bisognose. Si è poi speso totalmente per i più indigenti, donando anche tutti i suoi averi. Alle sue religiose raccomandava di prendersi cura, con amore e misericordia, degli scartati e diceva spesso, avvolgetevi tra i poveri. Stasera abbiamo la visione del docufilm che è stato preparato proprio in occasione della santificazione del nostro fondatore Don Luigi Palazzolo e sono presenti tutti i nostri dipendenti, tutti i volontari. Abbiamo voluto dare uno spazio particolare proprio a loro che sono qui nella nostra casa, coloro che collaborano con noi e che soprattutto lavorano in prima persona con i nostri utenti che sono minori in difficoltà e donne in difficoltà. Sono presenti, doveva essere presente anche il nostro Vescovo. Ci spiace tanto la sua assenza, gli siamo molto vicini con la preghiera, lo ricorderemo anche questa sera. C'è però il vicario generale, Don Carlo, che è anche il nostro cappellano, il vicario per la vita consacrata Don Giovanni Palamini e tutti insieme vogliamo appunto vivere questo momento di condivisione, di ascolto, di partecipazione e di conoscenza di quello che è un po' il nostro carisma, l'ascoltarlo e il viverlo da vicino attraverso la figura di San Luigi Palazzolo. Il motto del fondatore è ancora molto valido. Io cerco e raccolgo dove altri non giunge, perché dove altri giunge lo fa assai meglio di quello che io potrei fare. Dove altri non giunge cerco di fare qualcosa io, così, come posso.